Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Caivano, ha battuto un manufatto abusivo realizzato in una piazza di spaccio. Stamattina gli agenti del commissariato di Afragola e della polizia locale di Caivano, con il supporto del reparto mobile e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato, al Parco Verde di Caivano, un'operazione di sgombero e successiva demolizione, disposta dal sindaco del comune di Caivano, di un manufatto abusivo. I poliziotti hanno accertato, durante numerosi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che l'immobile, realizzato su un'area ad accesso pubblico, era utilizzato prevalentemente da una 65enne napoletana con precedenti di polizia anche per reati in materia di stupefacenti.